Grazie. 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 e poi si voglia di stare fuoco in questi gatti che si servono a scopermi bello stesso pensiero che ci sono vette a ciò che c'è che non c'è a ciò che c'è che non bisogna si avevano no c'è un'altra ma non bisogna non bisogna non bisogna Ha detto, lei ha detto, che non c'è mai non che c'è mai sicuro, non c'è mai visto prima, non c'è tanto quello che è fuori, ma anche non credo che lui c'è mai davvero detto, non c'è mai, non c'è mai la vista strado non c'è mai. Il primo è indice per fare questa situazione, e, comunque, non c'è mai problematica, per quanto riguarda la città della città della città della città della città. Algo che necessite lui? Si. 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 Si.